Buongiorno amici e amiche di AMF Channel, oggi abbiamo in serbo per voi una panoramica dei sondaggi e dei colpi di scena all'interno della casa del Grande Fratello. Stasera, nella puntata del 7 marzo, verrà finalmente svelato chi sarà l'eliminato di questa settimana. Sette concorrenti sono al televoto, ma solo uno dirà addio definitivamente alla casa. I sondaggi sembrano indicare chiaramente chi è in pericolo, ma aspettiamo ancora il verdetto finale. Simona continua a dominare la scena, con un confortante 56.52% nel primo sondaggio. Ma c'è anche Massimiliano che guadagna terreno, ottenendo un notevole 9.04% nel primo sondaggio. Altri concorrenti come Anita, Federico e Greta si contendono le posizioni di coda, Anita con l'8.34%, seguita da Greta con il 7.36%, subito dopo troviamo Federico con il 6.66%. Letizia con il 6.62% e l'ultima Grecia con il 5.45%. Scendendo nella classifica, troviamo nomi come Letizia e Greta, mentre Grecia colmenare sembra essere in una posizione più rischiosa. Potrebbe essere lei l'eliminata di stasera, ma non possiamo ancora dare nulla per scontato. Ci sono ancora possibilità di cambiamenti dell'ultimo minuto nei voti. E voi, cari spettatori di AMF Channel, chi vorreste salvare? Ditelo nei commenti. Lasciate un like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per non perdere ulteriori aggiornamenti. Grazie per la visione.